Il sistema della viabilità locale e quella delle aree esterne della città e dei comuni limitrofi per la donata nazionale degli alpini del prossimo maggio è stato il tema del colloquio tra l'amministrazione comunale ed i vertici dell'ANA con FVG Strade, Autovie Venete e Provincia. L'assessore comunale Bruno Zille ha puntualizzato che sono stati presi in esame gli aspetti di carattere viabile, in particolare quelli legati alle iniziative che si andranno a prendere in città, alle modifiche che interessano l'anello circolatorio e alle ricadute sulla viabilità dell'Interland, soprattutto per quanto riguarda l'autostrada e la statale 13. Continuano gli incontri organizzativi per quanto riguarda la donata degli alpini 2014, abbiamo sintetizzato quelli che sono gli aspetti di carattere viabile, soprattutto derivante per quanto riguarda le iniziative che andremo a prendere in città e quindi le modifiche che ci saranno per quanto riguarda l'anello circolatorio e quindi tutte le conseguenze che andranno a riversarsi poi su quella che sarà la viabilità a larghe maglie, soprattutto per quanto riguarda l'autostrada e la statale 13. Al proposito abbiamo avuto questo incontro interlocutorio sia con Autovie Venete sia con Friuli Venezia Giulia Strade proprio per organizzare un piano del traffico omogeneo, coerente per quanto riguarda le iniziative come dicevo prima che prenderemo in città e quelli che di riflesso ovviamente le autorità competenti di questa strada dovranno prendere proprio per armonizzare quelli che sono gli effetti poi sul traffico durante la donata.